E' una bella giornata e grazie perché sono stati giorni difficili per me e avevo proprio bisogno di vedervi. Avevo proprio bisogno di stare insieme e di mandare un abbraccio forte alla mia famiglia, alla mia sorella, al mio figliato, ai miei impoti, ai miei genitori. E' un mio figlio, a tutta la famiglia per la forza che vi ho unito. Grazie.